Ciao Grazie 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 La fluency La fluency di Maurizio Io facevo liceo Poi avevo una insegnante di inglese modesta insomma E parlava di fluency Poi Maurizio con gli americani Il figliolo l'abbiamo conosciuto quando aveva 14 anni E adesso mi fa il giornalista Quindi mi racconta col suo viso chi è veramente Maurizio Bezze L'amica a due punti aperte Da quanto hai conosciuto? Bajò ve pochis Grazie 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 Sì, ma non si è venuto in Italia. For the Italian team? And he said, no, I'm going to become a lawyer. Ah, ok. And he? He's just... No, no, you don't? For sure, he played basketball. But two years after. Two years after. Bye bye. Bye! Nice meeting you! I'm going to have to be here. I'm going to have to leave. Anyway, I don't need it too much. I've found it to be here. I'm going to have to leave. 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 We're in a half. Now that I'm not going to leave. I'll pass. Anyway, I'll give you my profile. I'll give you a little more. Maggio almeno, eh? Eh, vabbè. Un abbraccio.